Buonasera a tutti i telespettatori di R24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Nella giornata di martedì e quella di oggi una perturbazione ha determinato pioggia a tratti abbondanti su diverse aree della nostra regione, portando la neve fino a quote di bassissima collina in Emilia. La situazione nella giornata di domani tenderà a migliorare gradualmente, infatti la giornata vedrà il ritorno di qualche schiarita, soprattutto sui settori centro-orientali della nostra regione. Maggiore nuvolosità potrebbe interessare ancora le pianure dell'Emilia centro-occidentale e il crinale dell'Appennino, dove nel corso del pomeriggio qualche fiocco di neve potrebbe tornare a cadere. Temperature in caloni, valori minimi, comprese tra 0 e più 6 gradi, valori massimi generalmente compresi tra 6 e più 10 gradi, ventilazione per lo più debole, mare poco mosso. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Grazie. 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 Grazie.